Quali sono secondo lei le innovazioni che stanno cambiando e continueranno a cambiare il nostro stile di vita in futuro? Sicuramente tutte quelle tecnologie, innovazioni e servizi che aumentano il livello di immediatezza e di vicinanza fra le persone, fra di loro o con le aziende o i servizi che loro interessano. Se guardo quello che è successo alla telefonia, in passato andava bene aspettare di arrivare la sera a casa per parlare con gli altri, la telefonia mobile ha ridotto questi tempi con una comunicazione immediata, il web, la disponibilità delle informazioni sempre sotto mano, i servizi sempre accessibili, il mobile ha accelerato ancora questo trend portando sempre in tasca tutto quello che si può avere. Quindi sostanzialmente qualunque tipo di innovazione che permetterà alle persone di essere più vicine alle cose a cui tengono, che vogliono, che cercano sarà di successo. I social network e i social media sono sostanzialmente questo. Prima eventi come questa social media week erano i casi non frequentissimi in cui persone con gli stessi interessi o affezioni potevano incontrarsi e confrontarsi. I social network e i social media permettono di fare questo in qualunque momento. Quindi il trend è chiarissimo, vicinanza, immediatezza e sarà quella la cosa che continuerà a cambiare il modo in cui viviamo e ci confrontiamo con gli altri.